Salve naufraghi, sono di nuovo nel sentiero del rio Barca e ho beccato questa bella piantina. Sembra quasi una lattughina, ma guardate come conserva in questo calice tra le foglie dell'acqua. Veramente particolare. Appena scopro cos'è, ve la metto in descrizione, ma è una pianta bella grande, veramente una pianta carina. Ce ne sono tante, deve essere una pianta tipica di zone umide. Guardate quanta acqua, non mi meraviglierei di trovarci una ranocchia lì dentro. Guardate, ha proprio una specie di ciotola, forma una specie di ciotola tra le foglie. Beh, il sole è calato e io devo incamminarmi verso casa. Un abbraccione a tutti, se vi fa piacere mettete un like, iscrivetevi al canale. E uscite, andrete in giro a camminare, che ne avete bisogno, ne abbiamo bisogno tutti.